Benvenuti nella nostra introduzione al modello di punta della serie di pianoforti digitali Concert Artist di Kawai. Lasciatevi guidare attraverso i suoi suoni accattivanti, il design elegante e la ricchezza di funzioni e opzioni. Il CA99 offre un'immenso range di esclusivi suoni di pianoforte a coda, inclusi due gran piano da concerto, Shigeru Kawaii AX e Kawaii AX. Sono inoltre inclusi i suoni dei pianoforti a coda di media grandezza, Shigeru Kawaii SK5, Pop e Jazz. Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Con la sua nuova interfaccia touchscreen, il CA99 è ancora più semplice e più intuitivo da usare rispetto al suo predecessore. Il nuovo standard di connettività Huawei permette agli utenti di controllare il CA99 con qualsiasi dispositivo iOS o Android tramite una semplice connessione Bluetooth MIDI. Utilizza il CA99 come fulcro del tuo sistema audio domestico, sfruttando lo standard audio ad alta risoluzione APTX per una qualità del suono ancora più alta o connettendoti con il Bluetooth per riprodurre la tua musica preferita. Le incredibili caratteristiche del CA99 vanno oltre ciò che offre dall'interno. Il CA99 è disponibile con il CA99 con il CA99 è disponibile con finiture in nero lucido, nero, bianco opaco e palissandro. Prova subito il CA99 presso il CA99 presso il rivenditore autorizzato più vicino a te. Preparati per essere travolto dall'ispirazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.